Uccisione confermata! Le piastrine prima di tutto! Via! 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 Fuoco di copertura! Stiamo vincendo! No, sì, non possiamo farcela! Siamo in vantaggio! Prendiamoli gli atti! Così non possiamo farcela! Uccisione confermata! Ci stanno schiacciando! Le stiamo massacrando! Ricarico! Voletevi a bada! Movimento! No, fritemi! Coordinate confermate! Attacco in corso! No! 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 Uccisione negata, bombardamento Aton in corso, uccisione confermata, uccisione confermata. 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 Uccisione confermata.